Spettacolo a San Siro, bellissima partita al Meazza, veramente bella, bella, bella Inter, ci ha divertiti, ci ha colpiti, ci ha gasati, perché poi un risultato perfetto che sancisce l'automatica, matematica, partecipazione alla Champions da parte dell'Inter per la prossima stagione, quindi si può anche dire che la stagione già ora è da 8, considerando anche le coppe, il percorso che abbiamo fatto, vedremo dove andremo a finire, ma intanto siamo in Champions, missione compiuta, bella performance, intensa, esteticamente bella, tatticamente, perfetta, perfetta, avete visto, non la formazione, ma la tattica, avete visto esattamente, una marea, tutti i dettagli che raccontavano le pre-partite, sono contentissimo, non potete capire quanto, e adesso andremo ad analizzarla questa partita, ma voglio dire, bella, bella, anche la cornice di pubblico, cioè bellissimo, tutta la gente, che con le torce, così, diciamo un saluto, un saluto alla squadra, l'ultima partita in casa, un saluto bellissimo prima di quella che sarà la finale, non poteva andare meglio, andiamo alla partita, facciamo l'analisi di questa, di questa bellissima, bellissima serata, e ovviamente poi ci vediamo anche su Twitch, ora di mezzanotte, insomma, per festeggiare la partecipazione in Champions, festeggiare questa bella performance e parlarne ancora, però partiamo dai tre gol, partiamo, vogliamo partire dai tre gol? Certo che sì, allora il primo gol com'è venuto? Lautaro in verticale con Lukaku, ieri ho fatto una testa così, nella pre-partita della tattica sull'Atalanta, come giocano loro, i punti forti, i punti deboli, come dovremmo giocare noi, e questo e quell'altro, insomma, una cosa chiave, una delle tante cose, una cosa chiave è, Lautaro deve giocare in verticale questa partita con Lukaku, in verticale con Lukaku che fa da riferimento, va in profondità, e Lautaro che agisce dietro perché così manda in bambola la mediana dell'Atalanta, trova spazio, può anche condurre la palla e fare male. Cosa abbiamo visto? Primo gol, Lautaro in verticale su Lukaku, Lukaku che va in profondità, buca così la difesa, e abbiamo spaccato l'Atalanta. Secondo gol, molto simile con Lautaro che poi fa anche il cambio gioco, perché appunto giocando in verticale dietro a Lukaku, va in quella terra di nessuno della mediana, per cui ha sempre quello spazio per o condurre la palla, o girarsi e fare un guizzo e puntare la difesa, o fare la giocata cambiando gioco, raccordando e via, e poi abbiamo fatto gol, tra l'altro anche inserimento poi di Barella in quell'azione lì, altro punto chiave perché dicevo, possiamo fare malissimo l'Atalanta con le nostre mezziali, con Lautaro e purtroppo manca Mkhitaryan, perché anche lui avrebbe tagliato la mediana dell'Atalanta, come, non so come, e Barella, e Barella potrà fare molto male con gli inserimenti in mezzo, portando la palla o anche inserendosi senza palla, tra la mediana, perché è il punto debole dell'Atalanta. Oltre a quello che vi dicevo, vi dicevo anche Lukaku, o giochi in verticale, oppure qualche volta voglio vedere anche chi si possa decentrare, andare sulla destra, da chi? Da Scalvini, da Scalvini, perché nell'uno contro uno è lento Scalvini, è lento e lo punte gli può far male, ha quasi causato rigore Scalvini su Lukaku, già la prima volta che l'ha dovuto affrontare uno contro uno, da solo isolato sulla destra, ok? Cioè, meraviglia, cioè, io sono stra-mega contento, ovviamente personalmente anche, però in generale dell'Inter di stasera, partita perfetta, cioè preparata tatticamente in maniera esemplare, esemplare, ho una goduria che non potete immaginare. Terzo gol, come arriva? Anche quello, in verticale ancora una volta, in questo caso con Lukaku che fa da punto di riferimento, addirittura Brozovic, addirittura Brozovic che si sgancia, e Lautaro sempre, perché c'era pure anche Lautaro, che poi di fatto il gol l'ha fatto Lautaro, però, nel senso, l'interimento è di Brozovic con Lautaro quello a fianca, e anche lì, ancora una volta, le due punte di fatto in verticale, addirittura Brozovic che si sgancia, fa poi il barella e si butta in, proprio in verticale la linea, una linea dritta, proprio dritta, proprio in verticale, uno dietro, bellissimo. Io ho goduto, proprio tatticamente, ho detto, mamma mia, madonna, cioè io da, diciamo, se volete, più che da tifoso, da analista, così, vedere le cose che io desideravo vedere, è per tutte perfette, sembra che fossi lì a giocare con la Playstation, cioè, per una roba, una soddisfazione pazzesca, e Gasperini, muto, meraviglia, meraviglia. Poi andiamo su altre cose, anche altre dettagli, perché forse è tutto qua, no, ci sono tutti gli altri dettagli anche omessi, loro, ma Atalanta, sempre a uomo, sempre a uomo, eh, mi raccomando, in difesa e anche in mediana, e noi li abbiamo totalmente sballati, con incroci e movimenti repentini, costanti. Avete visto, più volte, anche qua, ho detto anche questa, c'è la Noglu, Barella, devono scambiarsi, intercambiarci, anche con Lautaro, perché loro marcano a uomo, e se perdono riferimenti, li mandiamo fuori fase, anche perché noi siamo molto più agili di loro, che sono lenti, che sono marcatori, sì, ma a tutto campo perdono un po' le distanze, sono un po' più lenti, impacciati, con i mediani, ma anche con i centrali, pensate a James City, ma pensate anche a Scalvini, a Toloi è stato messo anche lui in difficoltà, e costantemente era una fatica, e pensate che l'Inter ha giocato tre giorni fa, quindi magari non era neanche al 100%, e li abbiamo messi in difficoltà, tattica, costante, pensate voi con un Inter che ha fiato a dismisura, cioè, avremmo fatto veramente a pezzettini l'Atalanta, godo, ma non riesco a non dire godo, godo, è una cosa meravigliosa, andiamo avanti perché ce ne sono ancora, in realtà una cosa, una cosa, una cosa che, l'unica cosa che mi aspettavo diversa, forse era un po' la formazione, cioè qualche turnover in più, no? Non a caso, ad esempio, vedete, Fortaleità si è fatto male d'Ambrosio, che non è un titolare, quindi, bene, bene, però probabilmente siamo un po' al limitino, no? E sta cosa, io ho avuto la paura fino all'ultimo secondo, oddio, ma sei acerbi, oddio sei Lautaro, oddio sei Dunfries, no, si sente magari il dolorino, la cosa, la botta, questa è l'unica cosa su cui, devo dire, ci è andata un po' di fortuna, e abbiamo un po' giocato con il fuoco, secondo me, però poi, ovviamente, loro fanno anche tutte le analisi, i fisioterapisti e quant'altro, quindi immagino che avranno calcolato le cose, ho sentito che ieri, l'altro ieri, l'Inter ha fatto praticamente riposo, praticamente zero allenamento, e quindi forse, in questo modo, quasi, si è riuscito ad arrivare alla partita in maniera un po' più prudente, diciamo così, però la partita, comunque molto intensa di stasera, testimonia, cioè palesa, prova, un'altra, diciamo così, non intuizione, ma un altro, neanche dubbio, presentimento che ho avuto nella scorsa partita, dicendovi, secondo me l'Inter in Coppa Italia non è andata al 100%, è andata a risparmio, perché se due giorni fa, con i giocatori freschi, perché prima non avevano giocato, avevano fatto il turnover contro Napoli, hanno fatto quella partita, e oggi, dopo due giorni che si è giocato in finale di Coppa, hanno giocato così per 90 minuti, eccetera, pensate al centrocampo, Barella, c'è la Noglu, Brozovi ci hanno corso come dei pazzi, un'intensità pazzesca, stasera tutti e tre, meravigliosi, secondo me veramente, ci siamo andati veramente a risparmio contro la Fiorentina, qualcuno era preoccupato, oddio ma che brutto gioco, ma io veramente ho avuto quell'impressione, l'ho anche detto, zero preoccupazione, io ho visto un'Inter che è andata a risparmio, e abbiamo vinto a risparmio, quindi vuol dire che siamo veramente forti, stasera non ci siamo molto risparmiati, avete visto che abbiamo portato in giro l'Atalanta come si voleva, nonostante avessimo giocato due giorni fa, quindi, ecco, bene che non abbiamo avuto infortuni, io avevo una paura terrificante, veramente speravo che, Bella Nova che entrasse in campo, Bella Nova, ecco, e bene, vuol dire che la prossima partita, l'ultima, potremmo veramente giocarla con chi volete, mi candido io come regista, se vuole, no, anche una regista, c'è Aslani, meglio che giochi lui, Bella Nova, meglio che giochi lui, mi posso candidare come, non lo so, seconda punta al posto di Lautaro, così, così mi lo facciamo riposare, che ci serve fresco per la finale, è in momento positivo, tra l'altro, e lo vedo anche un po' più maturo ultimamente, nelle scelte, nelle giocate, oggi, per esempio, appunto, si è messo a giocare per la squadra, da raccordo, in verticale, aiutando, pressando, facendo, e poi alla fine i gol li fai, perché poi non conta per forza stare davanti per fare il gol, se tu fai un lavoro sporco per la squadra, quello che ho sempre cercato di trasmettere, se giochi, secondo le tue caratteristiche, poi ne trai beneficio, tu manchi tutta la squadra, e alla fine ti ritorna sta roba, perché poi magari fai pure gol, oltre ad aver aiutato la squadra, benissimo, con le caratteristiche, giocando un po' più indietro, magari, invece che da prima punta, ecco, quindi per me oggi è un godimento pazzesco, veramente pazzesco, ecco, l'unica cosa, appunto, verso la fine ho visto che eravamo, un pizzico più stanchini, forse, dall'emozione, l'adrenalina, la contentezza, la felicità, il divertimento che avevamo, non abbiamo sentito neanche la, più di tanto la stanchezza, però un pochino ho visto, cioè, a Cerbi, Brozovic, qualcuno, Lautaro stesso, che erano un po' alle corde, bene, che siamo riusciti comunque a portare a casa la vittoria, anche se l'Atalanta ha provato a pressare un po' alla fine, perfetto, è andato veramente, la classica ciambella che esce con il buco, perfetta, serata perfetta, peccato che abbia perso, mi pare, la Roma, perché io tifavo anche quelle un po' sotto, per insidiare un po' il Milan, invece il Milan sembra che, per il suicidio delle altre, vada in Champions, ecco, nonostante tutto, vabbè, pazienza, questo sarebbe stato proprio, cioè, la ciliegina top, super mega, l'Inter va in Champions, Lazio, e poi c'è la Roma, e il Milan va in una processa, sarebbe stato proprio chiedere troppo, vabbè, comunque, intanto sono felicissimo così, ovviamente, ditemi cosa pensate anche voi, nei commenti, lasciate like al video, condividetelo, iscrivetevi, attivate la campanella, le notifiche, se volete supportare il progetto, e vi piace, andatevi a vedere anche il pre-partita, per favore, se non l'avete visto, guardatevi anche il pre-partita, e guardate anche le pagelle domani, che sono i video che completano, poi la serata della partita, e se volete supportare questo progetto, abbonatevi, fate l'abbonamento, soprattutto quello della squadra, del messaggero, per entrare nel gruppo Telegram, oppure superiori, che vi aspetto, stiamo crescendo come community, anche proprio nell'intimo, dei supporters, del canale, è una cosa che mi riempie tantissimo, di orgoglio, e comunque di felicità, e di stimoli ovviamente, vi saluto, ci vediamo fra pochissimo, comunque in live, anche su Twitch, la festa continua, io, andate in pace, oggi proprio omilia, perché sono troppo felice, partita, che è proprio, da analista, che ti fa spruzzare, dovete capirmi, andate in pace, rendiamo grazie, forza Inter!